E' il primo tecnico campione del mondo a varcare cancelli di Torre del Grifo. Marcello Lippi, neocittadino onorario di vittoria, non poteva e non voleva mancare all'appuntamento e l'ultimo atto della sua breve visita siciliana l'ha riservato alla nuova ed efficiente casa del calcio Catania. Accolto dal presidente rossazzurro Nino Pulvirenti, l'ex allenatore di Juve Inter e nazionale vincitrice a Berlino ha osservato ogni angolo della struttura sportiva, rimanendo attratto dai campi in erba sintetica e dall'attrezzata palestra. Poi spazio alle interviste con Marcello Lippi a scegliere la location. Le facciamo qui, sotto il poster di Morimoto, ha detto il tecnico Viaregino. E' un doveroso omaggio al popolo giapponese scosso dall'immane tragedia del terremoto. Ho visto la televisione e l'inaugurazione del centro sportivo del Catania. Deve essere una cosa fantastica perché è molto bello, poi ne hanno parlato tutti molto bene. Già che siamo qua, domattina, prima di ripartire, mi piacerebbe visitarlo. Però non pensavo che fosse una cosa ufficiale, così conferenza stampa, televisione. Approfitto dell'occasione per fare i complimenti al presidente del Catania, alla società, che credo che abbia colto proprio nel segno. Credo che il futuro del calcio è questo qua. avere delle strutture, avere degli impianti e costruirsi i calciatori da soli. Soprattutto in posti dove c'è una grande risposta, dove c'è una grande voglia e dove c'è un grande attaccamento e un senso di appartenenza alle proprie squadre. Mister, completato questo tour, verrebbe voglia di allenare il Catania? No, no, io ho detto che in Italia, verrebbe voglia di allenare sempre quando si vedono queste strutture, quanto si sente quando avete sentito prima entrando qua il profumo dell'erba. Sono tutte cose perché a chi ha passato una vita nei suoi campi da calcio non posso passare inosservate. Però ci sono delle decisioni che uno prende, non è che le prende oggi, le comunica e poi il giorno dopo le cambia. Quasi quasi è meglio di Goverciano. No, no, non bisogna mai fare delle scale di valori quando si parla di strutture così importanti. Non c'è una meglio dell'altra, sono tutte belle, importanti e significative. Può essere un ottimo trampolino di lancio o di rilancio per i calciatori argentini, considerato che sul mercato sono tante le attenzioni per il catanese Lopez ed il palermitano Pastore. Al momento sembra difficile ritenere che i due giocatori possano continuare a restare rispettivamente in rosso-azzurro e rosa-nero, alla luce delle mire di varie società rivolte ad entrambi. Su Maxi Lopez è forte il pressing della Lazio, avviato già prima che si concludesse il campionato e ribadito dal presidente Lotito in occasione dell'inaugurazione del centro sportivo di Torre del Grifo. L'omonaco si trova da qualche giorno in Sud America a caccia di nuovi talenti e pertanto l'eventuale intesa potrebbe avere luogo soltanto nei prossimi giorni. Sul fronte rosso-azzurro appare certo il ritorno di Barientos, in prestito sino al 30 giugno alle Studiantes. Scontate le conferme di Gomez, Izico e Martigno, mentre Anducare e Silvestre verranno ceduti.